Ciao ragazzi, bentornati all'EMAC Channel. Sono qui per proporvi questo nuovo video dedicato al Mi Drone 4K. Sono i miei primi voli, vediamo com'è andata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E allora? Cosa ne pensate? Un bel like se vi piace, sostenete il canale, aiutateci a crescere, iscrivetevi, attivate la campanella. Al prossimo video. Ciao.